ciao a tutti per la prima volta voglio parlarvi dei funghi invernali e così si parla delle cini o le ciaioli questi per la cucina sono ottimi soprattutto fritti e anche nella zuppa in fase giovanile sono spettacolari e non bacano mai sono ottimi sono preda delle lumache e cinghiali di tutto quello che è la selvaggina in generale ma per resto sono veramente spettacolari vedete oggi mi sono fatto sono fatto un giro alla macchia mi sono fatto il mio cestino e devo dire che la nostra macchina in quanto è lecceta i leccini le ciaioli ci sono tra l'altro ho trovato molto bene giallarelli e ancora mazzi di tamburo bubole o puppole come le chiamiamo noi quindi vuol dire che ancora la fungata è fatta il vanile vedete questi questi sono i leccini secondo me non il gambo non si mangia è che è un po un po un po duro ma gli ombrelli sono spettacolari guardate guardate il compagno che accanto che fungo è è una roba fantastico bello forte macchia burianese tanta roba per questo tipo di funghi bene dopo questo spettacolo alla prossima ciao belli